Dovete cambiare l'automobile ma non sapete proprio da dove iniziare? Esiste un servizio altamente tecnologico in grado di aiutarvi nella scelta. Ve ne parlo tra poco qui su TecPrincess. Al giorno d'oggi le marche e i modelli di vetture sono tantissime e a complicare maggiormente le cose ci pensa anche la miriade di optional disponibili. Per questo motivo è nato DriveKey, un portale dedicato al mondo delle auto nuove, capace di aiutarvi a scegliere l'auto giusta per voi. Ma come funziona? Dalla home page di DriveKey potrete selezionare una prima caratteristica che state cercando per la vettura dei vostri sogni. Mettiamo che vogliate un'auto economica. Il sito vi indicherà tutte le auto di quella fascia di prezzo. A questo punto potrete avvalervi dei numerosissimi filtri per affinare la vostra ricerca. Non so, io lavorerei economica con il cambio automatico e magari anche cabrio. Una volta selezionata l'auto potrete analizzare nel dettaglio tutte le sue caratteristiche attraverso una pagina dedicata. Qui inoltre troverete confronti tra i diversi tipi di allestimento disponibili, ma anche confronti con altre auto simili. Insomma, scegliere un'auto non è mai stato così facile. Da un po' di tempo a questa parte è inoltre disponibile l'app per iOS e Android. L'applicazione di DriveKey sfrutta le innovazioni del machine learning per imparare a conoscere i vostri gusti. In fase iniziale vengono presentate alcune immagini relative ai modelli di auto più diversi. Basterà far scorrere il dito a destra oppure a sinistra per indicare il vostro apprezzamento nei confronti dell'auto. Man mano che effettuerete queste scelte, un complesso algoritmo renderà le immagini che vengono visualizzate più pertinenti rispetto ai gusti. All'app sono sufficienti 5 sì per definire appieno il profilo dell'utente. Una volta selezionate le vetture più adatte a voi potrete richiedere preventivi gratuiti, trovare il concessionario ufficiale più vicino, ottenere informazioni tecniche sulle automobili che vi piacciono di più. DriveKey permette di ricercare la propria auto del cuore tra più di 50 brand, più di 500 modelli e oltre 5000 veicoli. Avrete davvero l'imbarazzo della scelta! Direi che anche per oggi è tutto, io vado a divertirmi e a cercare la mia auto del cuore. Voi intanto visitate il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao! Ciao! Grazie per la visione!